Oh mio Dio, ma chi me l'ha fatto fare di venire qui? Che poi dico, mi avete vista? Avete visto che De Colmè? Si dice De Coltè Ma che c'entra De Colmè se parlo del mio, De Coltè se parlo del tuo, signor Dante? Beh, si, in effetti sei molto graziosa e devo dire che sembra addirittura vera Lei dice? Si, infatti come dire, complimenti al tuo costruttore Si, in effetti devo dire che hanno fatto proprio un bel lavoro Grazie